...di successi. Per il resto sono qua a raccontare forse la mia storia per comunicare agli studenti di oggi e di domani che seguire le proprie passioni, i propri sogni è possibile, sia dall'Università d'Ancona che dalle piccole realtà italiane abbiamo delle opportunità e risorse per cui essere gravi. Ci dice che la mia storia forse, un messaggio che vorrei portare con la mia storia è quello di ricordarsi che opportunità ci sono bisogna anche crearsi, non cadono dal cielo ma di sicuro essere flessibili nella mobilità, nel cogliere opportunità anche internazionali permette di fare un grande viaggio, di tornare magari nel futuro ma di essere aperti ad opportunità nel mondo.